... Allora, da tutto lo staff del Villabate Calcio, auguri Canale 8! E battaglia forte! Ringrazio gli amici del Canale 8, Giuseppe Bonanno, ringrazio tutti, anzi gli amici di Misilmeri, i colleghi dell'ufficio di gara di Misilmeri, i colleghi della mia associazione, curando un buon 2014 per tutti i colleghi e ufficio di gara della Sicilia. Da parte del Bagheria Calcio un augurio a voi e alle vostre famiglie, in particolare alla redazione di Canale 8 che professionalmente e costantemente ci segue. Un augurio alla trasmissione Passione Sport e a tutti i tifosi che ci seguono del Parc Nicodace e un augurio di buon Natale! Ciao amici di Canale 8, qui da Passione Sport vi facciamo i nostri più belli, cari e cintillanti auguri di buon Natale e buone feste!